Ho qui in compagnia però, ho ognuno negli anni del suo, sono contenta, volevo andare in Canada ma non sono riuscita, 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 sono riuscita, sono riuscita, ho la mia vita tranquilla, serena, il periodo della festa è molto molto molto, mi godo tutte le cose belle che io mi regalo al giorno, sono felice, mi stanno bene, mia figlia soccina tutta la sua famiglia, e tu raccontami cosa fai, sei ancora là a casa di mio papà o sei ritornato a Bogotà, cosa fai? e niente, mi sentiremo prossimamente, va bene? Dando un abbraccio forte, ti auguro una buona giornata, un buon risveglio, io ho già finito di lavorare, e adesso andando a casa, con un caldo allucinante, e niente, Rafa, la Pia ti vuole bene, ciao ciao! 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 I'm going to eat, present, present, an entrevist of work. Yes, I'm going to practice the vocabulari, of vocabulari, oh no, the vocabulari, and I sung, I'm listening the sound, the music, and sing, and practice a translator in Spanish, with English, and pronunciation. How are you? What are you doing? 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.